La numero 14 Giorgia De Carlo In semifinale anche la numero 10 Martina Maldonino In semifinale anche la numero 16 Elena Gemuzzi L'ultimo posto della semifinale è la numero 13 Arianna Petrosilo E allora vado a proclamare la vincitrice Entriamo un po' di musica adatta alla suspense di questo momento Vince la tappa di Miss Summer Salento Karidoski 2016 la numero 11 Alessia Carisi Come il solito l'incostione ha sbagliato il momento E' la donna, vabbè, a lei si è andati E' la donna, vabbè, a lei si è andata E' la donna, vabbè, a lei si è andata Grazie mille Grazie 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 a tutti.